Presidente Sospiri, buone notizie per la pineta danunziana di Pescara. Sono stati raccolti dei fondi e poi tra qualche mese si riaprirà al pubblico questo polmone verde della città. Come sapete noi abbiamo avuto questo terribile incendio del primo di agosto che per tutti i pescaresi, per tutti gli abruzzesi è una ferita ancora aperta e sanguinante. Perché oltre che la pineta danunziana sono stati colpiti altri luoghi danunziani, Ortono, la costa dei Trabocchi con ingenti danni sia ai patrimoni ambientali ma anche alle aziende agricole. Noi abbiamo subito approvato una norma da 3 milioni e 400 mila euro. Le 400 mila euro per le somme urgenze che i comuni hanno affrontato sono state già distribuite. I 3 milioni di euro saranno al fondo a disposizione per i danni agli agricoltori, ai vigneti, agli oliveti, a tutte le attività agricole che sono state colpite. In quel periodo dovevamo organizzare il festival danunziano. Noi siamo posti il tema, se era fosse giusto, fallo, c'è sempre questo equilibrio tra ciò che ti porta in termini di economia di ricaduta turistica, una grande manifestazione culturale e l'esigenza del momento. Abbiamo trovato un punto di mediazione di un festival, tra l'altro, molto, molto, molto riuscito, che ha generato grande consenso. Non potevamo mettere gli eventi a pagamento, non volevamo tenerli gratuiti, li abbiamo lesi condizionati a una liberalità di chi voleva vedere gli spettacoli. Questo ha prodotto un gettito a cui si è aggiunta un'ulteriore sponsorizzazione di alcune tra le società presenti all'interno delle sponsorizzazioni del festival e più uno sforzo fatto da tutto il Consiglio regionale, che con le sue economie di corretta gestione ha creato un fondo da 80.000 euro che oggi, con i colleghi presenti, consegneremo al Sindaco di Pescara. Se non sbaglio, è la cifra necessaria per riaprire e rendere fruibile la pineta. Ovviamente poi ci occuperemo di tutti i fondi necessari per farla rinascere completamente e di tutti i fondi necessari come protezione civile per acquistare mezzi che permettano che quello che è accaduto non debba ripetersi. Sindaco, dopo quanto è accaduto il primo agosto, c'è stata subito una presa di coscienza di tutta la politica, di tutte le amministrazioni locali, proprio sull'importanza di poter riaprire al più presto la pineta denunziata. Purtroppo il dolore è stato tanto, ed è stato il dolore di tutti i cittadini pescaresi e non, che sono intervenuti il primo agosto proprio per cercare di salvare il salvabile in una situazione drammatica quale quella che abbiamo vissuto e dal giorno stesso abbiamo cominciato a lavorare per la sua rinascita. Abbiamo creato questo gruppo di lavoro formato da esperti, associazioni ambientaliste, personaggi autorevoli della nostra città, senza colore politico, comunque con il coinvolgimento di tutte le parti politiche, anche dell'opposizione, perché la pineta non è di una maggioranza o di un'opposizione, la pineta è di tutta la città di Pescara e della regione Abruzzo, perché quella è una pineta integrale, è la riserva d'Annunziana, quindi è veramente il nostro cuore, è la nostra storia, è la nostra tradizione, è il nostro sentimento, quindi lavoriamo adesso per riaprire i comparti 3 e 4 con il contributo regionale importante derivante dal Festival d'Annunziano, quindi contribuzioni di persone comuni, questa è la cosa più bella. Poi abbiamo l'intervento che faremo all'interno del comparto 5 di Pulizia con le risorse che abbiamo noi come Comune messo a disposizione e anche quelle derivanti da contributi dei cittadini sul conto corrente del Comune.